Tonnarelli cacio e pepe, questa ricetta fonda le sue radici nelle tradizioni laziali più genuine, come la transumanza, quando i pastori avevano la necessità di spostare il gregge per lunghi tratti e portavano con loro prodotti che deperiscono lentamente, come appunto il cacio e il pepe in grani, con i quali poi componevano ricette semplici e molto nutrienti. Grazie ai tonnarelli, questo mix di ingredienti è diventato una delle ricette più famose e apprezzate del territorio laziale. Il cacio e pepe è uno dei piatti simbolo della città di Roma, bastano pochi ingredienti ben dosati e usati per avere una vera e propria esplosione di gusto. Mi raccomando, il segreto per fare dei buoni tonnarelli cacio e pepe è il tempo. Servono pochi minuti, ma bisogna fare le cose in maniera precisa. Occhio alla qualità degli ingredienti, la scelta di un pecorino romano dop ben stagionato è necessaria per ottenere una deliziosa crema che risulti irresistibile. Ma ora è il momento di cucinare, faremo la ricetta classica romana. Gli ingredienti per quattro persone sono 400 grammi di tonnarelli, 200 grammi di pecorino romano dop molto stagionato, pepe nero in grani, sale. Come preparare, cacio e pepe. Iniziate a preparare il cacio e pepe pestando i grani di pepe in un mortaio fino a ridurli a una polvere fine. Grattugiate il formaggio in grana fine e ponetelo in un'ampia ciotola, poi unite il pepe. Scaldate l'acqua per la pasta, quando arriva a ebollizione, aggiungete una presa di sale grosso e tuffate i tonnarelli. Aggiungete gradatamente un po' di acqua di cottura della pasta nella ciotola con il pecorino e mescolate energicamente con una frusta fino a ottenere una cremina. Scolate i tonnarelli, trasferiteli nella ciotola con il formaggio e mantecate. Distribuite il cacio e pepe nei piatti da portata, aggiungete una spolverata di pepe a piacere e servite e buon appetito, ti ringraziamo per averci scelto, e ti ricordiamo di iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie